Eeeh? Pensavate fossi morto E invece no, sono ancora qui Oh, come state, come state? E' bello tornare a registrare Dopo tipo 4 mesi dall'ultimo video Seeeeee E questo video, che video è? Un video aggiornamento Ah Già lo so che questo video farà tipo 3 visualizzazioni Per vari motivi Innanzitutto perché ad agosto YouTube è deserto E poi perché Come cazzo lo chiamo un video del genere? Alla fine ho deciso di fare un micro progettino Con il portatile anche se sto in vacanza Giusto vedere un titolo a questo video In pratica è Il gioco della vita di Conway E' una roba famosa perché da un set di poche semplici regole Si crea un algoritmo imprevedibile e potenzialmente infinito In pratica è questo casino di pixel colorati e spenti Che state vedendo in questo momento sullo schermo E le regole semplici che vi dicevo sono Ho deciso che ve le lascio a schermo Così che è interessato se le leggi Mentre se non siete interessati evito di rompervi il c***o Ma tornando a noi Che fine ho fatto in tutti questi mesi? Eh, ci sono tanti motivi per cui non ho fatto video Potrei dirvi che sono stato impegnato con la scuola Dato che ho fatto l'esame di maturità In cui tra l'altro come elaborato finale Ho portato una roba programmatata da me Ma in realtà se avessi voluto fare video L'avrei cercato il tempo Il problema è che a fare un video in sé per sé Non è che ci vuole molto Un periodo di giorni al massimo E registro e monto tutto Il problema vero è fare uno dei miei video Non per tirarvela ma È che non è che parlo di qualche cagata E ho fatto il video Siccome il mio canale è incentrato sulla programmazione Cioè, guardate i miei ultimi video per esempio Per fare questi due ho dovuto letteralmente programmare un intero gioco per video E per programmare ci vuole molto Molto, 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 molto Cioè, per farvi capire Il video più veloce che ho fatto è stato questo In cui ho preso Alan, il mio personaggio Che normalmente è un coso disegnato Ho creato una sua versione in voxel art Creando di fatto un action figure in 3D Cosa che non ho mai fatto in vita mia Ok, basta, sto divagando Basta col passato Via col futuro Fino a te l'ho sempre detto L'unica cosa che mi frenava dal fare il mio gioco in 2.5D Era il fatto che non avessi un'idea di un gioco Un'idea di trama Che mi soddisfacesse davvero Ebbene, signori L'ho trovata Ma si tratta di un progetto a lungo Lunghissimo termine Quindi è quasi meglio che ve l'ho scordato un po' per adesso Sto dicendo che non ci saranno più video sul 2.5D? No, forse saranno più rari Ma farò comunque video su test in 2.5D Che farò E anche qualcuno che ho già fatto in realtà Ma che non vi ho ancora fatto vedere E poi vari approfondimenti in generale Ma ho anche altro da dire Una nuova idea per un gioco molto più ridimensionato rispetto a quello in 2.5D E che potremmo fare anche insieme Insieme non nel senso che lavoriamo insieme Ma nel senso che io faccio qualcosa Ve la faccio vedere Come voi mi consigliate Io vado avanti Vabbè Avete capito che cosa Devlog a profusione Sì Ma come prima se ne parla a settembre Però adesso siamo tutti in vacanza O almeno io ci sono Motivo per il quale l'audio è anche peggio del solito Sto registrando con il telefono Dato che il microfono sta a casa Quindi a settembre In realtà ci sarebbe un'altra game jam Che si va a fine agosto Ma io in quei giorni sono in Spagna Quindi il 99% niente ragazzi E mi dispiace Ma Ah e non vi aspettate che a settembre Puh Youtube era a tempo pieno No Continuerò con la mia sacra tecnica Di un video ogni quando mi pare a me Ma è giusto per dirvi Che non morirò per 4 mesi all'improvvisto Come ho fatto adesso Ok ragazzi Credevo di aver detto tutto Ma in realtà c'è un'ultima cosa Che volevo fare da un molto molto tempo Eh Eh si ragazzi ci stanno Da Matthew Codes a Matthew Coder Cambia solo una lettera ma mi sembra molto più professionale Dai Anche perché Ora no eh Ma se magari un giorno dovrò lavorare ad un progetto non mio Nel quale dovrò lasciare uno pseudonimo dietro di coda Mi serve uno pseudonimo E quindi Toh Pseudonimo Matthew Coder E poi è divertente perché così il mio banner di Youtube si incasina ancora di più Ok basta ho davvero detto tutto Ciao ci vediamo a settembre